Sapevi che circa l'80% degli abiti inutilizzati finisce bruciato o in montagne di rifiuti che si accumulano sulla Terra? Se ti stai chiedendo se possiamo fare qualcosa di concreto per il nostro pianeta, la risposta è sì. L'Istituto di Ricerca Ambientale ha calcolato quanto a CO2 si risparmia a riutilizzare oggetti di seconda mano. Acquistare una felpa usata permette di evitare l'emissione di 10 kg di CO2. Di mano in mano si impegna a selezionare tutto ciò che può essere recuperato e proporlo come nuovo. Ma anche tu puoi fare molto. Il 3 e 4 settembre avrai l'occasione di ridare nuova vita a ben 25 bancali di vestiti e accessori con All You Can Wear. Prendi una borsa in tela al prezzo di 18 euro, la riempi fino al bordo di abiti e accessori vintage second-hand e il contenuto te lo regaliamo noi. Proviamo a calcolare quanto a CO2 risparmiamo in questo evento. In ogni bancale in media ci stanno 500 kg di vestiti, l'equivalente di 250 felpe. Possiamo quindi sopporre che risparmieremo 62,5 tonnellate di CO2 in tutto. L'equivalente di quasi 900 voli andate a ritorno tra Milano e Roma. E l'impatto green non finisce qui. Le borse a disposizione saranno mille e sono state realizzate a mano appositamente per l'evento da una start-up di docenti universitari di Loda che si chiama 13 cm. Una bellissima realtà artigiana che ha realizzato le borse all'open wear riciclando due terzi di tessuto. 13 cm ha inoltre ideato e realizzato ogni borsa diversa dall'altra. Ognuna è unica ed è impatto zero. Ricapitolando, riutilizzo l'etica del lavoro o di PINWE 3-4 settembre a Milano e alle spinasse 99.